Si è spento il 16 settembre in una clinica romana dove era ricoverato da qualche giorno Carlo Azzelio Ciampi, morto all'età di 96 anni. Sobrio, misurato e moderato, il decimo Presidente della Repubblica se ne è andato senza clamore, lasciando un paese sicuramente migliore di come lo ha trovato, quando, con ampissimo consenso, nel 1999 è stato eletto dal Parlamento, tutto alla prima votazione e prima ancora, quando nel 1993, in pieno caos Tangentopoli, si sedette sullo scranno più alto del governo. Fu, infatti, il primo Presidente del Consiglio di provenienza non parlamentare dopo una lunga carriera come Governatore della Banca d'Italia dal 1979 al 1993. A capo di importanti e di castelli economici nei due governi guidati da Prodi e poi in quello di D'Alema, Ciampi divenne Presidente della Repubblica nel 1999, ci accompagnò nel passaggio della lira all'euro e consegnò l'Italia in mano a Giorgio Napolitano nel 2006. La classe politica e l'Italia intera perde un uomo giusto e morigerato vicino al Paese Reale, a cui ha fatto da defibrillatore istituzionale, come ha riportato il Corriere della Sera. Su Twitter è pioggia di commenti in memoria di Carlo Azzelio Ciampi, uno su tutti, Fiorello, che ha cinguettato. Imitato per anni, ci chiamò in diretta a Viva Radio 2, dotato di ironia come tutti i livornesi, addio Presidente. Sabato 17 settembre si terrà la Camera Redenta al Senato e domenica i funerali, che pare non saranno di Stato.